il nome del nostro pittore di stasera è nello marsilio eccolo qua buonasera nello buonasera allora nello vuoi dire qualcosa su nello sicuramente lo leggo nei tuoi occhi nello dimmi una cosa ma questa questo è un gesù velato questo qua è una tecnica tutta parte però scusate un attimo ecco perché non si sentono le risposte allora allora questa è una tecnica mia si fa mista tra carboncino ossidi con la polvere e matita grafite vedo che il maestro Cacciala è molto interessato a questo tipo di tecnica queste sono varie sono delle varie esposizioni di mostre questa qua è la bambina dell'undice di settembre è un pochettino particolare come quattro sì anche perché dove è andato il mio papà ricordando proprio quel momento tragico delle twin tower ho capito delle torre gemelle invece quest'altro è un'altra mia opera che ho vinto un concorso a Villa Savonaro con la Portici che è organizzato dal maestro Massimo Bacilio è il mio promotore ho capito benissimo senti una cosa nello due cose su di te le voglio dire perché sei nato a Napoli il 1973 vive a Sant'Irpino a Sant'Irpino esatto provincia di Caserta la passione per il disegno praticamente è nata nel 2000 guardando una foto della fidanzata questo è un particolare molto curioso poi ti è venuto in mente di disegnare e da lì è scattata la molla per poi farti arrivare a questi capolavori bene e da chi è saputo di questo concorso facebook maestro Facilio facebook e maestro Facilio poi ringrazio il maestro Cascella sì perché poi dovete sapere cari telespettatori che ci sarà un galà un galà veramente eccezionale per noi artisti sì perché poi è proprio il maestro Cascella insieme alla sua giuria che decreterà il vincitore del premio Giuseppe Cascella 2012 tutto questo avverrà alla fine di marzo mi raccomando allora pittori scrivete 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 prima di ringraziarti ma il titolo delle opere allora questa qua è la bambina dell'11 di settembre ecco proprio il titolo dell'opera è questa è questo qua è Cristo velato bene bene